Ciao, sono Paolo Valci e vi presento questo 6 metri della Carado, un van elegante dal suo colore, funzionale, a un bel prezzo. Cliccate sulla vostra destra in alto e si aprirà la scheda del nostro sito con tutte le caratteristiche e gli option già compresi su questo camper. Il prezzo di listina ma soprattutto il prezzo chiave in mano, che è quello che vi permette di poter partire, scegliere e partire per le vostre vacanze. Qua porta la zanzariera, lo scalino e questo la zona giorno. Un bel tavolo, un bel piano d'appoggio anche per coloro che sono nel lato passeggero, quindi 1, 2, 3, 4. Qua un bel contenitore, qui sopra un altro contenitore, poi l'oblò, bello grande, poi il tavolo si abbassa e si aggancia sulla stecca inferiore e può diventare un altro letto, quindi un terzo posto. Bello scambio dare con una bella finestra. Poi andiamo nel blocco cucina, qua il frigorifero con il suo congelatore, un bel piano d'appoggio, due fuochi e il lavello. Bel pensile, guardate quante cose c'entrano, un contenitore sportello, un cassetto e altro contenitore. Poi il letto ha l'oblò, la finestra e le due finestre posteriori apribile, quindi c'è un bellissimo scambio di aria. Questo è un pensile e questo è un altro pensile che sia a destra che a sinistra. Guardate questa, con questo io quindi dryato, la larghezza è veramente ampia e ci si sta bene. Qui un altro contenitore armadio. Poi il bagno, qui i vari contenitori, un bel piano d'appoggio, il lavandino, quindi avere tutte le cose, quindi ci si può tranquillamente lavare e guardate, anche se il pensile basso non è che disturba, la finestra e l'oblò. Oltre avere la stecca per agganciarci le cose bagnate e trovarle sempre asciute. Qua il water, quindi una bella seduta comoda. Per fare la doccia c'è la tenda, questo è lo spazio sfruttabile per lavarsi, quindi comodo. Qua la parte posteriore, qui il contenitore, qui sotto potete vedere le misure, la parte, quel divisorio è possibile toglierlo, come è possibile togliere anche questa parte centrale, quindi vi può anche servire per portare anche armadi se andate all'IKEA a comprare delle cose. Il van non solo vi serve per abitacolo, ma anche da furgone. Quindi questo camper compatto, funzionale, semplice, per le vostre vacanze chiamateci per la nostra consulenza perché è molto importante, vorremmo offrirvi, tante volte c'è chi sceglie, se vuole scegliere camper piccoli, ma con noi sentendoci cerchiamo un po' di comprendere le vostre esigenze per meglio consigliarvi. Come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravandoci. Ciao!